buongiorno a tutti eccoci a quarnier guardate che bravi che sono questa è la sede del pd cittadino questa notte qualcuno ha ben pensato di spaccare la vetrina farsi sopra i suoi bisogni sulla porta questi non sono ragazzi questi sono dei lazzaroni guarda che roba ecco fatto questo è il rispetto verso chi la pensa in un'eternata maniera mamma mia mamma mia che lazzaroni mamma mia mamma mia che gente mamma mia odiare chi si ritrova per cercare di fare qualcosa di buono io penso che davvero sia una una sconfitta di tutti ma alla che roba ma questi sono belli attacchi come si deve però uno lavora di notte esce fuori mentre torna a casa vede queste belle cose e però non ci si deve incazzare mamma mia una bella pisciata altronde se questa educazione altro che coronavirus pazzesco una cosa veramente pazzesca allucinante ecco lì sarà andassù ecco fatto senza parole davvero non si riesce proprio a capire cosa possano fare davvero delle persone che si trovano a discutere cercare di parlare di ciò che succede a livello nazionale a livello regionale no ma non si può questo non si può non è accettabile una cosa del genere e noi va vabbè i vite si cambiano le porte si puliscono e si va avanti che si fa non sarà sicuramente una un'azione del genere che ti porta comunque a dire a me è successa una roba del genere la prima volta che vedo una roba del genere vivere una roba del genere è pazzesco davvero una cosa incredibile poi a casa tua questa è questa è Quornier a Quornier una città importante per tanti valori per la resistenza vedere queste cose fa veramente male davvero al di là del fatto di uno come possa pensare a livello politico un luogo di ritrovo dove persone si trovano per discutere è una casa diciamo sì è una casa queste sono cose inaccettabili davvero pazzesco pazzesco davvero e vabbè purtroppo c'è questa gente non è Europa qui si sono atti veramente osceni e argognosi poi di notte così tanto per fare sarà andata tirata su mamma mia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.